Nella chiesa dello Spirito Santo in Via Lago d'Averno si è celebrata la festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, un simbolo, una figura quella dell'Arcangelo Michele, simbolo appunto di giustizia e difesa contro il mare, che riflette perfettamente la missione quotidiana delle donne e degli uomini in divisa, impegnati a garantire rispetto delle leggi, l'ordine pubblico e la sicurezza della collettività. La celebrazione è stata ufficiata dall'Arcivescovo Metropolita di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, alla presenza del Questore Massimo Gambino e di tutte le massime autorità civili e militari della provincia ionica. Il Questore, in un sentito saluto per il suo ultimo San Michele Arcangelo a Taranto, ha ringraziato il Vescovo per la sua presenza. La mia nomina Questore del Capoluogo di Regione è un importante riconoscimento alla Questura di Taranto e anche a tutto il territorio ionico, che pur tra mille difficoltà ha un notevole potenziale e grandi margini di sviluppo. Il Questore, infine, ha rivolto un sentito pensiero di gratitudine a tutti gli uomini, le donne della Polizia di Stato in servizio nella provincia di Taranto, che con la loro professionalità e con il loro silenzioso operato, hanno collaborato in questi tre anni per garantire rispetto di ogni forma di legalità.